Giorgio Roporta, benvenuto nel salotto di Romantica, vorrei una tua impressione su questa apertura del cinema Aquila, tu che sei giovane e ragazzi. Beh, innanzitutto sono una persona che vive da 30 anni in questo quartiere, che è il Pigneto, è un quartiere bellissimo di Roma, è un quartiere che ancora conserva una caratteristica, una popolarità particolare. Ecco, oggi è una giornata importante perché soprattutto finalmente il sesto municipio, un municipio abitato da quasi 140.000 persone, ah, finalmente il cinema, perché dopo dieci anni che hanno chiuso tutti i cinema della capitale, i nostri giovani, tutte le persone che vogliono vedere un film sono costrette ad andare a San Giovanni o a 100 centi, oggi finalmente, anche grazie al lavoro che sono fatto negli ultimi dieci anni, anche il Pigneto e il sesto municipio hanno un loro cinema nel loro pubblico. Speriamo di poter dire, non finisce qui, iniziamo da qui per fare altre cose, con i giovani. Ciao.